La prima ditta si chiama Hive Power, dal 2017 implementa reti elettriche intelligenti, quindi in grado di ottimizzare i consumi, promuovendo le cosiddette 4D, decarbonizzazione, digitalizzazione, decentralizzazione e democratizzazione. Ce ne parla Gianluca Corbellini. Tutti noi qui oggi siamo molto concentrati su questo aumento incredibile dei prezzi dell'energia a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. In particolare caricare piccoli device come telefoni cellulari non è così impattante sulla nostra bolletta, ma veicoli elettrici e altri asset molto più importanti hanno dei costi che sicuramente sono incrementati in modo importante negli ultimi mesi. In aggiunta a questo incremento incredibile dei prezzi di energia, l'adozione globale della mobilità elettrica pone delle sfide ulteriori molto importanti, Bloomberg stima che il consumo di energia elettrica per caricare veicoli elettrici aumenterà almeno di 20 volte a livello globale, da qui al 2040 e questo arriverà a rappresentare oltre il 10% del consumo globale di energia elettrica. Il problema principale che riguarda la ricarica di veicoli elettrici non è tanto come andiamo a produrre l'energia elettrica che ci servirà e verrà immagazzinata nelle batterie delle auto elettriche, ma più quando andremo a caricare le auto, quindi non è tanto a livello tecnico un problema di energia quanto di potenza. Con il setup attuale, quindi con una ricarica semplice delle auto elettriche, il problema delle reti elettriche può diventare molto grande, sia a livello svizzero che europeo, ma anche globale. Con il sistema attuale assisteremo abbastanza facilmente a problemi di mancanza di potenza o di blackout, questo anche indipendentemente dalla fornitura di energia che stiamo vivendo in questo periodo storico. Io mi chiamo Gianluca Corbellini, sono CEO e cofondatore di iFpower e in iFpower stiamo sviluppando un software per automatizzare la ricarica intelligente dei veicoli elettrici e in futuro anche la scarica intelligente dei veicoli elettrici, questo per caricare i veicoli nel momento migliore, al prezzo migliore e con un'esperienza utente estremamente semplice. Vediamo come funziona. Gli utenti finali hanno a disposizione un'applicazione mobile dove possono comunicare i loro bisogni quotidiani, quindi tipicamente quando hanno bisogno dell'auto alla mattina o al pomeriggio o alla sera ogni giorno e anche a livello di carica e alcuni eventi occasionali, quindi come eventi di manutenzione o vacanze o diciamo viaggi particolari. La nostra piattaforma poi aggrega tutte queste informazioni, analizza i mercati energetici, analizza i bisogni delle reti elettriche e ottimizza i profili di carica e di scarica di queste auto elettriche, sia per gli utenti finali che per il mercato dell'energia. I nostri clienti diretti tipicamente sono compagnie energetiche, quindi soprattutto grandi compagnie internazionali, che quindi creano dei nuovi profitti da questa ottimizzazione della ricarica dei veicoli elettrici. Arrivano a fare circa 1000 euro o in questo momento storico anche molto di più all'anno da ogni veicolo elettrico, di nuovi profitti. Il mercato è in fortissima crescita, si stima che le auto elettriche a livello europeo rappresenteranno almeno il 40% del totale di auto vendute entro il 2025 e questo significa che allora almeno 30 milioni di veicoli elettrici avranno bisogno di nuove soluzioni per la ricarica intelligente, questo solo a livello europeo, e creerà un valore aggiunto di almeno 30 miliardi di euro annualmente, semplicemente ricaricando meglio i veicoli elettrici. Questo valore sarà direttamente allocato verso compagnie energetiche, che appunto faranno circa 1000 euro all'anno per ogni veicolo, riconosceranno poi verso gli utenti finali uno sconto in bolletto, comunque un bonus economico importante, rilevante, e noi ovviamente in questo business model andiamo a prendere una licenza d'uso per la nostra piattaforma di ottimizzazione. Abbiamo già diversi clienti a livello europeo ma anche a livello svizzero da dove siamo partiti, alcuni arrivano sia dal mondo dell'automotive come Toyota e Stellantis con cui stiamo svolgendo alcuni progetti pilota, altri sono grossi player internazionali come E.ON o Plenitude del mondo dell'energia che hanno quindi una possibilità di scalare verso l'alto moltissimo le nostre soluzioni. A livello di competizione abbiamo ovviamente già diversi competitor a livello europeo, cerchiamo di differenziarci andando a coprire il più possibile tutti i pattern di ottimizzazione che possiamo andare a toccare, che vuol dire soprattutto partendo dal singolo utente, quindi andare a ottimizzare il proprio utilizzo dell'auto elettrica, per esempio con il fotovoltaico di casa o per coprire, iniettando energia dalla macchina anche il consumo di energia alla sera. Il secondo use case molto importante è quello del trading sui mercati di energia, quindi semplicemente caricando l'auto quando l'energia costa poco sul mercato e scaricandola quando l'energia ha un costo invece più elevato, tipicamente all'ora di cena. Il terzo tema che diventerà sempre più importante man mano che i rinnovabili entrano nel sistema elettrico è il supporto per il bilanciamento delle reti elettriche, questo sia a livello locale, nella reti di distribuzione, sia a livello nazionale nella reti di trasporto. Questo è un tema tra l'altro che è anche molto attuale, si sta parlando molto di gestione della flessibilità in ambito elettrico in questo momento di crisi energetica. Il nostro business model è molto semplice, quindi noi forniamo solo software con un approccio software as a service, B2B, quindi andiamo direttamente a vendere alle grosse compagnie energetiche che poi approcciano i clienti finali, questo per essere il più scalabile possibile, quindi con un pricing che dipende dal numero di veicoli ottimizzati. Nel team siamo già 17 persone, è un team molto internazionale, persone da sei paesi diversi, principalmente tecnico, quindi ingegneri o informatici. Adesso stiamo cercando di chiudere un round di finanziamento per crescere ancora molti di più e approcciare nuovi mercati. Questo è un po' tutto, in poche parole su AvePower. Siamo nati come spin-off universitario della SUPSI, abbiamo un'esperienza molto lunga su questo tema, già dal 2011 abbiamo iniziato i primi progetti a livello accademico su smart charging e vehicle to grade. Come obiettivo poi più green, che arriva ovviamente in parallelo a tutti questi obiettivi economici, c'è sicuramente quello di favorire l'adozione di energie rinnovabili e di veicoli elettrici, facendoli diventare più interessanti a livello economico. Abbiamo anche partecipato a due dei maggiori, due dei tre più importanti acceleratori del mondo, che sono Techstars e Plug & Play. Abbiamo anche un supporto molto forte dalla Commissione Europea attraverso il grant di ricerca. Questo è tutto, ovviamente sono a disposizione poi per parlare e avere un confronto interessante con voi. Grazie. Grazie Gianluca Corbellini. Se c'è qualche domanda palesatevi ora. Professora Paolini, prego. Magari può venire col gelato. Dove si trova adesso Alessio? Così possiamo vederla anche nella registrazione. Paolo. Dove? Qui. Due domande. Una dal punto di vista dell'utente, il singolo, il beneficio qual è? Il soggenimento di orario, diciamo, qual è il beneficio per il singolo? Dal punto di vista delle aziende invece dei fornitori, il modello com'è? Il pay per subscription, c'è un fee per ogni subscription? Sì, allora, il beneficio diretto per l'utente finale, quindi il proprietario del veicolo, che può essere sia residenziale, una flotta business, può essere di vari tipi, soprattutto un beneficio economico, quindi può avere un risparmio molto importante sul costo per caricare l'auto, può essere anche del 50% o anche maggiore. Quindi diciamo il trade off è che l'utente finale mette a disposizione la flessibilità nel caricare la propria batteria alla compagnia energetica tramite i nostri algoritmi e riceve in cambio un bonus economico questo. Questo è abbastanza diretto e il modello economico è esattamente appunto quello di subscription basato sul numero di veicoli. Quindi per ogni veicolo che noi andiamo a ottimizzare, adesso stiamo valutando vari scenari, potrebbe essere fra i 50 e i 100 euro all'anno come pricing. Grazie. Grazie, è proprio il professor Paolini che le consegna il diploma d'onore, vi invito allora a fare la foto di Rito qui davanti al... Grazie Gianluca Corbellini di IVE Power, professor Paolini. Grazie a tutti.